in un'occasione come queste, ma è l'unica parola che si adatta a queste circostanze. Io e mia sorella vi ringraziamo per l'affetto, la dedizione che è portata a nostro padre. Il sindaco diceva chi era Pino Rauti. Mia sorella ne traccerà, visto che ha seguito le orme, un profilo squisitamente più politico. Io traccerò il ricordo di quello che per me è stato un padre, un padre molto particolare. Era una persona di grande umanità, di grande ironia, di grandissima cultura. Era una persona curiosa, alla quale devo molto, perché lui mi ha insegnato molte cose. E lui era in particolar modo molto orgoglioso di essere nato in questa terra. Io di cardinale, o meglio, con i ricordi che mio padre aveva di cardinale, parecchi ricordi sono cresciuta, perché papà mi parlava spessissimo. In molte occasioni mi raccontava come si viveva qui negli anni venti, quando mi nacque, come succedeva, alcune burle che combinava con gli altri ragazzini del paese. E ha sempre avuto un rispetto e un attaccamento. Non ha mai dimenticato neppure un secondo la sua terra natale. E spesso e volentieri accostava un certo benessere che si poteva vivere nei tempi successivi a cui era nato lui, con le difficili condizioni che lui aveva conosciuto sin da bambino, con il sacrificio di moltissimi calabresi che da questa terra furono costretti a mandarsi. Come padre era veramente una persona speciale, ma non lo dico come lo dicono tutti i figli, era anche un grandissimo amico dei figli, nel senso però buono, lo sapeva essere giustamente vero, e ha sempre educato mia sorella con una grande capacità. Innanzitutto ci ha insegnato l'onestà, la rettitudine, la voglia di imparare, di conoscere e di migliorarsi giorno per giorno, in tutte quelle che sono le nostre attività. E devo dire che mi manca molto, perché i genitori quando non ci sono più, anche se sei una persona adulta, ci mancano sempre tanto. Però io ho una fortuna che molti non hanno, ed è quella di avere tanti ricordi di mio padre attraverso le persone. Non c'è posto dove qualcuno non mi dica qualcosa di buono, ma anche di meno buono su mio padre, ma con un rispetto che mi colpisce spesso. Gli avversari politici sono quelli che ne parlano benissimo. Io lavoro da molti anni in Rai e quando è morto mio padre, devo dire, ho ricevuto poche attestazioni d'affetto. Una mi ha colpito però in modo particolare, veniva da un mio collega della sinistra, che mi scrisse queste parole su un sms, un abbraccio e adesso posso dirterlo. Tuo padre era il mio sogno segreto per la mia formazione politica. Questa persona poteva anche non fare nulla di tutto questo. Però sentirselo dire significa parecchio. Cioè mio padre è una persona che ha lasciato tanto come ricordi, come tuttura, come scritti, come libri e vedo che moltissimi giovani lo ricordano, lo stimano e lo rispettano con una, diciamo, con una gioia che è difficile trovare altrove. Io quando santo parlare di mio padre vedo sempre comunque l'entusiasmo o nella regione del cosi, se si tratta di persone non a lui, diciamo vicine, politicamente, con estrema curiosità e anche un pizzico di rabbia perché, mi sono sentita dire più di una volta, l'avessimo avuto noi. Vi ringrazio di cuore per questo. Io desidero partire da ringraziamenti sentite di cuore e poi naturalmente, sia pur brevemente, entrerò nel merito e nel valore di questa iniziativa che ci vede qui oggi. Intanto voglio ringraziare i vigili e le forze dell'ordine che hanno dovuto arginare, ma anche su questo dirò qualcosa dopo, arginare delle contestazioni. Poi desidero di ringraziare ognuno di voi che in un giorno, di domenica, di metà agosto, ha deciso di rinunciare alla spiaggia a un'altra attività per venire a fare una cosa che io ritengo importante e che riguarda le emozioni, il cuore, i sentimenti e le idee. Quindi ringrazio ognuno di voi. Mi sono molto commossa perché chiaramente oggi ho visto persone che fanno parte della storia della mia famiglia con racconti e foto e quindi è stato intenso, ho ritrovato parenti e ognuno di voi qui ha un motivo che lo porta, ha una storia e un suo passato e quindi siamo dei privilegiati se abbiamo la possibilità di condividere questo incontro. E voglio ringraziare di cuore profondamente l'amministrazione comunale di Cardinale e il sindaco che hanno inteso dedicare e tributare a Pino Rauti, nato a Cardinale, questo riconoscimento, una via. Io conosco anche la complessità di tale procedura, i tempi e i modi, come accennava il sindaco. E quello che succede oggi davvero resterà un punto fermo di questa amministrazione, resterà un punto fermo della storia della nostra famiglia, mi permetto di aggiungere, resterà un punto di riferimento per tutti coloro che comunque in un modo o nell'altro hanno a destra nel cuore certe idee che non muoiono.